Nuove grane per la ASL dell'Aquila. La Procura della Repubblica del Capoluogo ha aperto infatti un'inchiesta su una serie di appalti affidati dall'azienda sanitaria. Si tratta di una serie di gare bandite per la manutenzione del verde, per la gestione dei magazzini, per l'inventario dei beni mobili. La magistratura dovrà accertare se ci sono state anomalie o irregolarità. Le indagini sono ancora in corso. Da quel che si sa però è stato aperto un fascicolo intanto dopo una segnalazione arrivata nel registro degli indagati in attesa di svolgere tutti gli accertamenti quattro persone. Nel caso della gara per la manutenzione del verde ci sarebbero due funzionari indagate per corruzione per aver favorito una ditta e ricevere in cambio lavori gratis e regali in occasione delle festività. In uno degli appalti è coinvolta invece una ditta dell'Alto Sangro. I carabinieri su disposizione della Procura hanno già da tempo scandagliato gli uffici dell'azienda sanitaria per acquisire la documentazione necessaria a ricostruire tutta la filiera degli appalti. Gli inquirenti vogliono capire se ci siano state insomma delle irregolarità e già sarebbero stati sentiti a tal proposito alcuni dipendenti. Questa è la terza inchiesta che coinvolge la ASL nel giro di un anno. La scorsa estate erano finiti nel registro degli indagati un medico e due funzionari per l'acquisto di apparecchiature mediche. Indagine chiusa in questo caso. Altra inchiesta aveva riguardato la gara per affidare i servizi di pulizia degli ospedali della provincia. La Procura in questo caso aveva chiesto il rinvio a giudizio di una funzionaria.